Proseguono gli interventi di relamping nella città di Fano, ovvero la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con apparecchi a LED di ultima generazione e a basso consumo. Dalla fine dello scorso anno sono iniziate le prime operazioni a macchie di lopardo su tutto il territorio comunale da parte di Aset S.p.A. Questo perché le lampade di varie categorie, formate da più o meno LED, sono state scelte sulla base della tipologia della strada in cui andranno installate. Questo è un momento nel quale la città si sta rivoluzionando, ci sarà un nuovo impatto sia visivo che dal punto di vista della sicurezza perché stiamo cambiando tutte le fonti di illuminazione con delle nuove più performanti. Sono oltre 13.000 i lampioni sparsi per tutta Fano, 4.000 già convertiti a LED, mentre i restanti 9.000 in fase di sostituzione che dal classico colore arancione verranno trasformati in luce bianca con la possibilità di abbassare la luminosità a seconda delle situazioni. Con questi nuovi impianti sarà possibile inoltre notare subito tramite telemetria se un singolo lampione ha dei guasti o semplicemente non è acceso. È un salto qualitativo sia della quantità che della qualità della luce e siamo già a 2.300 pezzi plafonieri installate e devo dire che riscontriamo feedback positivi in ogni quartiere. Ma questo era nelle cose perché il progetto è stato studiato nei minimi dettagli in quanto addirittura nasce oltre al calcolo in luminotecnico da dei test che abbiamo fatto per tipologia di via, proprio per non esasperare da un lato, anche se molto importante, il risparmio energetico, ma dosarlo anche con un salto di quantità di luce che porta di per sé sicurezza e anche innovazione e risalto alla città di Fano. Il progetto è nato in collaborazione con l'amministrazione in cui ASET è il braccio operativo e finanzia insieme al comune. Nel frattempo le squadre sono all'opera tramite l'ausilio di un camion cestello nella sostituzione di circa 65 corpi illuminanti al giorno. Molto probabilmente entro ottobre dell'anno in corso prevediamo di completare la sostituzione e di iniziare il monitoraggio completo dei risparmi già a dicembre di quest'anno o a gennaio del prossimo anno. Però già visto che il progetto comunque è in corso si possono già iniziare a vedere i primi risparmi nelle bollette dell'illuminazione pubblica, infatti già a gennaio e dicembre dell'anno scorso già registriamo un risparmio di circa il 10-12% di energia elettrica, quindi un equivalente di circa 500 MWh all'anno.